La macchina organizzativa del primo soccorso, quello delle ambulanze, vive in provincia di Salerno, dai tempi del congelamento del bando per l'affidamento del servizio, un momento di difficoltà e tante sono le problematiche di quello che viene ancora visto come un lavoro di volontariato affidato alle associazioni. Un chiaro ossimoro che porta a diverse difficoltà, come quella che si vive nella zona sud del Valle di Diano. Da qualche tempo gli autisti delle ambulanze del 118 di Padula non hanno ricevuto i rimborsi, essendo volontariato non c'è stipendio e quindi la stazione di Padula è rimasta sguarnita. Per questo motivo la centrale operativa ha deciso di spostare un'ambulanza, in modo momentaneo, da Sanza a Padula, restando sguarnita la postazione ai piedi del Cervati. E ci sono state diverse proteste, non solo. Alla nostra redazione sono giunte anche diverse fotografie che immortalano lo stato di alcune ambulanze usate del 118, uno stato non proprio ottimale. In attesa di comprendere se sono mezzi che ancora sono in circolazione e più fondi ci confermano tale situazione, si attendono risposte sulla macchina organizzativa del 118. Nota a margine, in questa situazione non c'è neanche molta unione tra le associazioni in campo, con la speranza che alla fine dei conti non paghi colui che ha bisogno dell'efficienza della macchina organizzativa, ovvero il paziente.